amici di mondo blackberry.com sono genismart88 in questo video qui andremo a vedere il gioco per blackberry playbook dal nome tetris tetris è un gioco che praticamente va avanti di generazione in generazione il gioco più conosciuto del pianeta insieme a pacco ma noi troviamo in questa versione per il nostro tablet playbook in modalità ovviamente gratuita perché era preinstallato sulla versione 1.0 del tablet e sul nuovo tablet os 2.0 non lo troviamo preinstallato ma c'è la possibilità di scaricarlo gratuitamente andiamo a vedere un po' la panoramica di questo gioco alla schermata iniziale abbiamo maratona magia che sono alcuni formati di gioco un po' particolari abbiamo le statistiche opzioni info e guida il gioco è totalmente in italiano possiamo fare anche una partita rapida che segue un po' le tracce di quello che è il tetris all'antica poche parole in base al nostro score saliamo di livello facciamo maratona nuova partita adesso vedremo scendere i nostri blocchi i quali possiamo muovere con il tablet e se facciamo un clip sopra il blocco cambierà di posizione ricordiamo questo qua è il gioco ufficiale fa invece con così facciamo scendere più velocemente se siamo sicuri ovviamente che la posizione vada bene che direi un gioco più famoso del mondo chi è che non conosce tetris questo caso qua come appunto vi dicevo il gioco è gratuito ed è molto divertente vi consigliamo appunto il download per mondo blackberry.com genismart88 alla prossima